Tutti a tavola! Ehi, guarda! Ci vorrebbe un bel gelato, vero Marshall? Sì, Rubble! Ottima idea! Ehi, ciao amici! Volete un gelato? Io avrei un'idea migliore! Oggi faremo un semi-freddo! Sì! Ottima idea! Riccardo, possiamo darti una mano? Va bene, amici! Per cominciare dobbiamo montare le uova! Ci serviranno 4 uova Per prima cosa, separeremo l'albume dal tuorlo! Ehi, Riccardo! Perché hai separato gli albumi dai tuorli? Separiamo i tuorli dagli albumi per dare una migliore consistenza al nostro semi-freddo! Ehi, Riccardo! E cosa ne faremo di questi due ingredienti? Con questi due ingredienti dovremmo montare il tutto! Dai, ragazzi! A lavoro! Oh, chi sa! Come sarà il risultato? Rubble, te monterai gli albumi! Agli ordini! Ehi, ma sta diventando una schiuma! Bravi, ragazzi! State andando alla grande! E adesso uniremo i nostri albumi con i nostri tuorli! E continuiamo a mescolare! Wow! Che consistenza! Ecco qua! E ora non ci resta che aggiungere dei mirtilli e un po' di mela tagliata a pezzettini! Wow! Oltre che sembrare buono, è anche bello da vedere! Mescoliamo bene il tutto! Ecco fatto! E ora mettiamo la nostra poltiglia in frigo! Allora, amici! Ora prepariamo il nostro strato di pasta frolla per completare il nostro semifreddo! E ora è il momento di usare il nostro mattarello! E ora faremo la forma di questo piatto! E ora rimuoviamo le parti in eccesso! E ora mettiamo la nostra pasta frolla in forno! Attendiamo qualche minuto mentre io vado a prendere il nostro ripieno dal frigo! Eccoci! Mmm! Sembra già buono! Calma Rubble! Non è ancora finito! Giusto, Marshall! Ah sì! La pasta frolla! Sicuramente è pronta! Mmm! Ma che buon profumino! Mmm! Che buono! Bene! Ci siamo quasi! Marshall, Rubble, guardate che pasta frolla che ho fatto! Mmm! Come profuma! Ora versiamo il nostro ripieno sulla pasta frolla! Ottimo! Rimettiamo il nostro semifreddo in frigo! Wow! È proprio bello da vedere! Sembra un'opera d'arte! Bene! Bene! Facciamolo riposare qualche minuto in frigo, dopodiché potremo già mangiarlo! Certo che sarà buono! Tutte le cose che cucina Riccardo sono sempre buonissime! Io non ho dubbi, Rubble! Riccardo cucina sempre molto bene! Amici, nel momento che aspettiamo il nostro semifreddo, beviamo un po' di tè! Questa tazzina per tè, Marshall! E questa tazzina per tè, Rubble! E ora versiamo il tè! Oh, il nostro semifreddo! Sono sicuro che sarà pronto! Andiamo a dare un'occhiata! Mmm! Che buon odore! Non vedo l'ora di provare il semifreddo! Sicuramente sarà delizioso! Eccoci finalmente! Il nostro dessert è pronto! E' arrivata l'ora di mangiare! E tagliamo la prima fetta! Dai! Non sto più nella pelle! Rubble, questa fetta è per te! E' una fetta anche per me! Beh, ragazzi, che aspettate? Mangiamo! Mmm! Buonissimissimo! Mmm! Che delizia! Bravo, Riccardo! Mmm! Eh sì! Sono stato bravo! Veramente buono! Non immaginavo che questo semifreddo fosse così buono! Certo che è molto buono, Marshall! Perché l'abbiamo fatto noi questo dessert! Un po' di tè! Sì, l'idea del tè è perfetta! Bene amici! Anche oggi ci siamo deliziati con una delle mie specialità! Se vuoi trovare delle altre ricette, torna assolutamente nella mia cucina! Ciao ciao!